Una donna italiana sul calendario Pirelli mancava dal 2017, l'ultima era stata Elisa Sednawi. E adesso arriva lei, Elodie. Non credevo di incarnare la donna Pirelli, il tipo di femminilità per esempio alla Monica Bellucci, invece quando mi hanno chiamata sono stata felicissima. Elodie di Patrizzi, 34 anni, dopo aver posato in maggio per Decal, in queste settimane sta girando fuori il film di Mario Martone su Goliarda Sapienza, con Valeria Golino e Matilda De Angelis. Poi, in settembre tornerà su un altro misterioso set come coprotagonista, e intanto si prepara a una stagione calda con un nuovo disco e due importanti appuntamenti live 2025, negli stadi San Siro a Milano e Maradona a Napoli. In una carriera sempre più piena di impegni, non poteva però dire di no al calendario Pirelli. Non avrei mai accettato di posare per un calendario. Ma Decal è unico, ha raccontato negli anni il mondo della moda, del cinema, gli uomini e le donne, i grandi fotografi e le grandi modelle. In più, sono poche le italiane che lo hanno fatto. Perché non credeva di essere una donna Pirelli? Di me stessa ho un'immagine che è rimasta bimba, mi fa strano pensare di essere diventata una donna. Ero emozionata e anche un po' un'imbarazzata per questo. Poi, non è solo questione di fisicità, ma di quanto sei di spicco. Il calendario è un test di notorietà? Sì, il fatto di essere stata chiamata mi aiuta a capire che il mio lavoro si sta sedimentando. Passo dopo passo ci sto provando, con professionalità e studio ma al tempo stesso cerco anche di giocare, rapportandomi alle cose come se fossi un adolescente. Scelgo quello che mi piace, conosco persone, artisti, e così mi sento parte di qualcosa. Nella posa in cui Green l'ha fotografata sull'acqua lei sembra completamente nuda. In realtà avevo addosso una piccolissima mutandina color carne. Ma in generale è bello che quest'anno Pirelli abbia riscoperto il nudo. Noi nasciamo nudi, il nostro corpo è semplicemente un involucro che racchiude l'anima. In sé non ha niente di così scabroso, siamo noi che lo rendiamo tale. A me comunque imbarazza mostrare i sentimenti, non il mio fisico. Il calendario quest'anno presenta bellezze molto diverse, uomini e donne, donne transgender. Mi piace che sia così vario, evita di cadere nello stereotipo della donna fotografata per l'uomo. Il giorno in cui ho scattato, con me c'era Hunter Schafer e modella transgender, NDR, che è di una bellezza strepitosa, non sapeva chi io fossi, ma è rimasta lì a guardarmi. Quindi, se lei dovesse dare una definizione della bellezza? Il modo in cui ci si muove, gli occhi che rendono viva una persona, la gentilezza. Bellezza non è solo un'equazione matematica, una questione di proporzioni, di simmetria del volto e di gambe lunghe. E dicendolo a cavalla sotto l'abitino badge gambe chilometriche.